ciao a tutti benvenuti su mtgp spemegisto flotus allora in questo video consigliamo tre reserve che ci può stare acquistare in questo momento perché secondo me potrebbero salire relativamente a breve la airtai è una carta che era già salita adesso si è abbassata un pochino come potete vedere ci sono tante copie in giapponese sui 10 euro ed è un mago costo 3 1 1 una leggenda quindi può essere usato anche come comandante nel caso tappando 4 tappandolo possiamo canterare una spell molto semplice è di esodo quindi le copie non sono così poche come sono 678 ci può stare prezzo è oggettivamente basso la seconda è firex annegator del dual deck che è una reserved ed è una delle poche reserved forse l'unica che ha addirittura tre stampe perché ha tolte le power nine eccetera ha anche la versione judge con un disegno diverso che è veramente molto bella però il prezzo sale e la versione di busta che è questa qua però questa costa veramente poco ed essendo una reserved secondo me ci può stare a investirci in futuro magari salirà a prezzi interessanti l'ultima è triceri ve l'abbiamo già consigliata sta sui 40 50 euro nelle lingue normali o in giapponese ne trovate tante copie e la forza della carta è oggettiva non c'è dubbio il prezzo secondo me è basso per la carta che è soprattutto una versione giapponese che magari adesso ce ne sono tante ma in futuro ce ne saranno un po' meno in inglese ovviamente il top però sicuramente un po' più alta lasciate un like iscrivetevi al canale commentate e attivate la campanella ciao ragazzi